Musica La portata movimentata per gli abitanti di un palazzo di via Berlinguer è andato a fuoco la porta d'entrata di un'abitazione sembra in seguito al lancio di un ordigno a scopo intimidatorio. Una situazione paradossale sul territorio della Asla a Roma 4 si può effettuare la MOC solo a pagamento e anche chi ha l'esenzione del ticket è costretto a sborsare una cifra per evitare di recarsi a Roma. Due nuove rotatorie sono in cantiere, si tratta di quella tra via Lepanto e via Chille Montanucci e tra via delle Sterlizzi e il parco Spigarelli per un costo totale di 215 mila euro. Fine settimana ricco di eventi per la banda Puccini, sabato i musicisti civita vecchiesi suoneranno all'inaugurazione delle luminarie mentre domenica sarà la volta della festa di Santa Cecilia. Nuova avventura per Massimo Castagnari, l'ex allenatore del Civita Vecchia ha detto sì alla Dispo e domenica esordirà in campionato proprio contro i Nero Azzurri. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Incendio stanotte, probabilmente di natura dolosa alla porta di un appartamento di via Bellinger. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco ai quali speterà il compito di chiarire una vicenda drammatica che vede coinvolti una donna e suo figlio, i particolari nel servizio. Notata a dir poco movimentata, quella appena trascorsa, per gli abitanti di un palazzo di via Berlinger. Intorno alle due di notte, vigili del fuoco, carabinieri e polizia sono accorsi nello stabile per un incendio. Ad andare a fuoco la porta d'entrata di una abitazione, fortunatamente vuota, al momento dello sviluppo delle fiamme. Dalle prime ricostruzioni, da parte delle forze dell'ordine, sembrerebbe che l'incendio sia scoppiato in seguito al lancio di un ordigno rudimentale a scopo intimidatorio ed indirizzato al figlio della proprietaria dell'appartamento. Il ragazzo che già in passato aveva tentato il suicidio, gettandosi dalla finestra di un'abitazione posta al sesto piano di Viale Giacomo Matteotti, continua ad avere problemi legati all'uso di droga. E pare che proprio i debiti legati all'assunzione di stupefacenti di vario tipo sia alla base del gesto intimidatorio che a lui era rivolto da parte di chi è in credito nei suoi confronti. In piena notte quindi si sono registrati momenti di grande paura per gli abitanti dello stabile che hanno visto le fiamme lambire le pareti del pianerottolo, il vano ascensore e le scale comuni e seguito con apprezzione l'intervento dei vigili del fuoco della caserma Bonifazi che in breve tempo hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'aria. Come detto al momento dell'incendio, l'appartamento era vuoto visto che la mamma del ragazzo da cinque mesi ha abbandonato la sua casa per le ripetute minacce subite da parte del figlio alla continua ricerca di denaro. La donna da mesi è costretta ad essere ospitata da amici e parenti o a trovare alloggi di fortuna per passare la notte in sicurezza. Più volte ha tentato di intraprendere con il figlio percorsi di uscita dalla dipendenza della droga, tutti naufragati. Quello che è successo stanotte, afferma la donna, conferma quelle che sono le mie paure riguardo la mia incolumità. Da tempo denuncio alle istituzioni, sindaco e servizi sociali compresi la terribile situazione che sto vivendo. Chiedo due cose, un sostegno per curare in modo adeguato mio figlio che più volte ha rifiutato di essere aiutato e un posto sicuro per me dove poter stare. Adesso ho una casa senza porta con tutte le mie cose dentro, ma non ci posso tornare. Ormai da tempo la mia non è più vita. Fortunatamente, a parte la paura dei momenti vissuti stanotte, il fatto non ha avuto conseguenze drammatiche né per la donna né per gli abitanti del palazzo. Certamente è necessario un intervento immediato per evitare che, come spesso capita di sentire anche dalle cronache nazionali, queste storie possano finire nel peggiore dei modi. Abbiamo recentemente presentato presso gli uffici comunali un'istanza di accesso agli atti che riguarda l'estrazione e la consultazione delle deliberazioni che riguardano le varianti urbanistiche adottate e approvate in epoca successiva all'entrata in vigore della legge della Regione Lazio numero 1 del 1986. Lo afferma Damiria Del Mirani, presidente dell'Università Agraria, che torna a parlare degli usi civici. Del Mirani spiega di aver presentato un'analoga istanza di accesso agli atti per ottenere l'elenco dei permessi rilasciati e delle autorizzazioni per lavori pubblici concesse in relazione alle aree risultanti gravati da usi civici in base alle analisi territoriali approvate. Vogliamo arrivare a dimostrare, siamo convinti di poterlo fare, atti alla mano, conclude Del Mirani, che l'amministrazione comunale di Cività Vecchia, almeno dal 1986 e sì nei giorni nostri, non ha agito con la necessaria diligenza ed ha operato con la relativa prudenza nel concedere autorizzazioni edilizie in quei terrini in cui poteva ben essere valutata una consapevolezza di presenza di uso civico in capo al Comune stesso. 1.500 famiglie, pur avendo acquistato regolarmente con specifico atto notarile le proprie abitazioni in zona tenuta delle mortelle, sono impossibilitate a disporre del proprio bene se non dopo una conciliazione che comporterebbe un ulteriore esborso di 6.000 euro nei confronti dell'Università Agraria che rivendica l'uso civico dei terreni. Ad affermarlo, in una nota, è Francesca De Vito, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Nell'ultimo collegato al bilancio, l'ennesima beffa, spiega De Vito perché la maggioranza ha deciso di ribadire quanto già stabilito dalla determinazione del 2013. Anziché dare seguito alla sentenza che risolverebbe i problemi, l'aggiunta regionale ha dimostrato ancora una volta approssimazione e incompetenza. Zingaretti è stato governatore per 10 anni. In questo enorme lasso di tempo non è riuscito ad ascoltare la criticità dei territori e risolvere questioni amministrative semplici. Moc ha pagamento su tutto il territorio dell'ASL Roma 4, anche per chi ha l'esenzione. È la paradossale situazione che si registra da quest'estate quando il macchinario della struttura convenzionata con l'azienda sanitaria si è rotto, al pari di quelle in dotazione alla ASL stessa. Ne abbiamo inserite tre nel documento di programmazione degli acquisti per gli strumenti diagnostici 2023, afferma la direttore generale Matranga. Stiamo lavorando per anticipare la fornitura e il servizio. Sul territorio dell'ASL Roma 4 si può effettuare la Moc solamente a pagamento e anche chi ha l'esenzione del ticket è costretto a sborsare una cifra se vuole evitare di recarsi a Roma. È la paradossale situazione che si registra da qualche settimana a questa parte a Civitavecchia e nei comuni che fanno parte dell'azienda sanitaria locale e che viene segnalata da alcuni utenti. Il problema è sorto dopo il guasto alla strumentazione per la mineralometria ossea computerizzata la tecnica di investigazione medica diagnostica al cui scopo è quello di indagare lo stato di mineralizzazione delle ossa e la densità della massa ossea nell'unica struttura di Civitavecchia convenzionata con l'ASL Roma 4. Oltre un anno fa infatti l'azienda sanitaria aveva dismesso le proprie apparecchiature per un guasto e perché ritenuto obsolete ed aveva temporaneamente tamponato la situazione con una convenzione con una struttura accreditata che garantiva il servizio elargendolo gratuitamente a chi aveva l'esenzione per esempio quella per il codice 048 assegnata in caso di patologie oncologiche. Dopo il guasto avvenuto quest'estate quindi non c'è una MOC su tutto il territorio dell'ASL Roma 4 se non a pagamento. Per la serie oltre il danno la beffa per chi è all'esenzione e si trova costretto a pagare circa 100 euro privatamente per evitare di dover andare a Roma per farla gratuitamente ma con tutte le difficoltà di affrontare un viaggio verso la capitale in condizioni fisiche già provate da malattie più o meno gravi. L'azienda, ha spiegato il direttore generale dell'ASL Roma 4 Cristina Matranga aveva già preso in carico la questione tanto che all'interno del documento di programmazione degli acquisti per gli strumenti diagnostici 2023 sono previste tre MOC una da dedicare alle esigenze del distretto 1 e 2 e le restanti per i territori più lontani dei distretti 3 e 4. La DG ha spiegato che alcune problematiche relative alle forniture hanno dilatato i tempi necessari all'acquisto dei macchinari visto anche il disservizio che si è creato con il privato accreditato a ferma Matranga stiamo cercando di anticipare la fornitura almeno di una delle tre apparecchiature in questo momento stiamo ricontattando le case produttrici e nei prossimi giorni sapremo dare una tempistica più precisa sulla consegna della MOC Tengo a sottolineare, ha concluso la DG che è premura dell'azienda attivare il servizio nel più breve tempo possibile per coprire le necessità del territorio e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per farlo. Si è conclusa la scorsa settimana il ciclo di incontri sulla prevenzione e le vaccinazioni dedicate agli anziani promossa dall'ASL Roma 4 e dall'assessore ai servizi sociali del comune di Civitavecchia Cinzia Napoli tanti gli over 70 che hanno partecipato alle diverse giornate di questi in 36 hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale anti-pneumococco L'iniziativa si è svolta nel corso del mese di novembre gli incontri ad opera degli operatori del servizio vaccinazione dell'ASL Roma 4 si sono tenuti all'interno dei tre centri sociali della città di Civitavecchia Carlo Kenis, Giuseppe Aledda e Anna Magnani Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco è impegnato in questi giorni a Bergamo alla 39esima edizione dell'Assemblea Nazionale del Lanci l'associazione nazionale dei comuni italiani inaugurata ieri dal presidente Sergio Mattarella davanti a 2208 amministratori locali il primo cittadino della nostra città sarà tra i relatori del panel i sindaci per l'Italia in programma dalle ore 9 si discuterà di l'Italia dei territori dalle esperienze alla proposta con interventi oltre a quello del sindaco tedesco dei sindaci di Pisa Ferrara, Cantù, Castel del Giudice chiudono Imperia e Passano con Bornago la rete di monitoraggio della qualità dell'aria va preparata alle nuove sfide lo afferma Fabio Angeloni dell'osservatorio ambientale che spiega che nel 2025 lo scenario cambierà radicalmente e resteranno oltre al traffico le ciminiere delle navi che sono alte una trentina di metri con emissioni di inquinanti in movimento e particolarmente intensi in alcune fasce orarie secondo Angeloni due solo centraline a terra non bastano e servirebbero anche i droni sniffer nuova tecnologia utilizzata a Gibilterra e Rotterdam con l'autority conclude Angeloni auspichiamo di poter aprire un confronto trasparente insieme alla richiesta di un primo incontro rivolta da Didèi a Musolino l'osservatorio ha inviato una prima agenda si tratta di una ventina di argomenti che delineano il profilo di sostenibilità dell'autority esiterà domani alle 17.30 presso l'hotel San Giorgio un incontro in cui si parlerà di un nuovo modello di sviluppo per Civitavecchia saranno presenti l'assessore regionale Paolo Ornelli il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino e la presidente della commissione attività produttive e sviluppo economico della regione Lazio Marietta Tidei oltre alle istituzioni locali associazioni di categorie rappresentanti di lavoratori e cittadini sorgeranno a breve due nuove rotatorie a Civitavecchia una tra via Lepanto e via Montanucci e una nell'intersezione tra via delle Sterlizie e ingresso Parco Spigarelli per la realizzazione delle opere si parla di un importo di circa 215 mila euro che saranno finanziati prendendoli dal mutuo che era stato stipulato per il progetto relativo alla cittadella della danza che invece non sarà realizzato per i dettagli sentiamo il servizio arrivano novità importanti sul piano della viabilità e del decoro urbano cittadino con due nuove rotatorie che sorgeranno a breve nel piano triennale 2023-2025 delle opere sono indicati diversi interventi fra cui la realizzazione di rotatori e parcheggi con un progetto di spesa di circa 8 milioni di euro l'obiettivo del comune è snellire il traffico e dare un'immagine più decorosa ad alcuni quartieri della città si parla di diverse nuove rotatorie all'intersezione tra via Lepanto Largo Verde e via Benci e Gatti tra via Lepanto e via Montanucci e all'intersezione di via delle Sterlizzi e l'ingresso del parco Iuri Spigarelli potrebbe diventare permanente inoltre quella tra via Rodi via Matteotti e Largo Martiri delle fosse Ardeatine una nuova dovrebbe sorgere anche alla fine di Pietro Nenni e pochi giorni fa proprio su questo tema è uscita una delibera che riguarda i lavori per la realizzazione di due rotatorie considerate prioritarie rispetto alle altre una nell'intersezione tra via Lepanto e via Chiele Montanucci e una nell'intersezione tra via delle Sterlizzi e l'ingresso del parco Iuri Spigarelli a San Gordiano l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori è stato affidato all'architetto Aldo Junior Ferrari e si parla di un importo di 215.524 euro il progetto come detto inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del 2022 nella delibera si legge che l'importo relativo ai lavori è finanziabile attraverso la devoluzione del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti relativo alla realizzazione di un centro integrato per lo sport e la danza denominato Cittadella della Danza che non verrà realizzato il comune pensa inoltre di realizzare dei parcheggi per snellire il traffico nelle zone centrali si è svolta l'assemblea annuale della sezione Ampi nonostante le condizioni meteo non certo ottimali numerosi iscritti e iscritte hanno partecipato all'evento reso unico dalla straordinaria presenza della signora Tatiana Bucci sopravvissuta all'olocausto e instancabile testimone dello Shoah nel nostro paese la signora Bucci ha commosso gli astanti affermano dalla sezione Barbaranelli Maroncelli con il racconto della drammatica esperienza vissuto nel campo di sterminio di Auschwitz e della storia dei 20 bambini giovanissimi ebrei di età compresa tra 5 e 12 anni per mesi usati come cavie da laboratorio dal personale medico delle SS e poi brutalmente assassinati dalle belve naziste il 20 aprile 1945 solo per una casualità la signora Bucci poté scampare a quel massacro le parole di questa straordinaria testimone del nostro tempo sottolineano ancora una volta l'importanza di preservare la memoria di quei tragici eventi affinché un simile orrore non abbia mai più a ripetersi l'assessore alla pubblica istituzione Monica Picca annuncia che sono in partenza i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza scuola lavoro rivolti agli alunni del liceo delle scienze umane Guglielmotti il progetto consiste infatti nell'attivazione di stagio formativi pressi nidi comunali il giardino di Ginevra e le briccole della scuola infanzia comunale bambini di Beslan che si svolgeranno durante l'anno scolastico con possibilità di accogliere contemporaneamente nelle strutture fino a 15 studenti che saranno accompagnati e supportati dal tutor nella figura del coordinatore pedagogico e dal personale educativo docente con i quali avranno modo di relazionarsi e confrontarsi costantemente e fine settimana ricco di eventi per la banda Giacomo Puccini sabato ci sarà l'inaugurazione delle luminarie natalizie e i musicisti civita vecchiesi suoneranno alcuni brani inerenti al periodo domenica invece sarà la volta della festa di Santa Cecilia la sede dell'MC in via Bramante ma da qui a Natale saranno numerosi gli eventi che vedranno impegnata la banda Puccini ascoltiamo l'intervista al direttore artistico Tiziano Leonardi Tiziano Leonardi tantissimi appuntamenti per quanto riguarda la banda Puccini uno atteso molto dalla città quello dell'accensione delle luminarie che si terrà sabato si accendere le luminarie vuol dire iniziare le feste quindi è una cosa che fa molto piacere e ci terranno compagnia per tutto il periodo natalizio e noi come banda comunale Giacomo Puccini saremo presenti alla cerimonia dell'accensione appunto il 26 fuori il terzo italiano delle luminarie e noi ci esibiremo con dei brani natalizi per collocarci già nell'atmosfera nel mood natalizio già due nostri membri insomma dell'associazione sottoscritto il maestro Emiliano Manna saremo presenti anche il giorno precedente presso la cittadella della musica per la bellissima manifestazione in difesa dei diritti delle donne contro la violenza delle donne il giorno 26 appunto alla cittadella della musica e ci esibiremo e faremo parte di un novelo di altri artisti che animeranno questa bellissima celebrazione questo venerdì è poi un appuntamento anche domenica assolutamente questo venerdì appunto l'abbiamo detto ma domenica ci sarà la festa di Santa Cecilia presso la nostra sede di Via Bramante siete tutti invitati sarà un concerto molto sentito perché si esibiranno in formazioni cameristiche molti docenti di musica classica della nostra associazione e poi ci sarà l'esibizione della banda comunale Giacomo Puccini diretta dal maestro da Via e ci saranno dei brani vari dei brani classici anche una strizzata d'occhio a quelli più moderni ma ci sarà anche un momento molto toccante che è quello della come dire di un piccolo riferimento un piccolo omaggio ai ragazzi che sono entrati al conservatorio noi facciamo questo prepariamo molti ragazzi per entrare appunto al conservatorio di musica in questo caso al Santa Cecilia di Roma e in pochi anni già una dozzina di ragazzi già sono entrati per il nostro grande diletto e stiamo preparando tutte quante le altre manifestazioni che saranno tante cospicue speriamo anche belle che appunto prenderanno svolgimento a dicembre quindi rimaniamo sintonizzati e alla prossima si è svolta questa mattina a Piazzale Guglielmotti la terza edizione per una goccia per la vita ovvero la giornata dedicata alla donazione del sangue l'iniziativa è stata fortemente voluta dalla consigliere Lisa Pepe ed è stata organizzata dai comitati cittadini di Avis e Croce Rossa italiana anche quest'anno c'è stato il contributo della Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord tanti cittadini che si sono recati all'emoteca per compiere questo nobilissimo gesto e voltiamo pagina occupiamoci di sport voglia di riportare la sua squadra in alto e magari di ripetersi in Coppa Italia un massimo Castagnari molto carico quello che commenta la scelta di diventare il nuovo allenatore della Dispoli al momento la squadra rosso-blu terz'ultima in eccellenza ai quarti di Coppa competizione che l'ex allenatore del Civitavecchia ha vinto nella passata stagione a cui tiene particolarmente compito non semplice per lui che in attesa del mercato di dicembre che potrebbe cambiare gli scenari domenica sfiderà proprio Ruggero e compagni nella grara in programma al Tamagnini sentiamo le parole di Castagnari in questa intervista Massimo Castagnari nuovo allenatore della Dispoli che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? La cosa importante è il confronto dei ragazzi conoscerci trovare quelle sensazioni per andare avanti insieme e tramutarli poi in prestazione quando andremo a affrontare domenica il campionato Che gruppo ti aspetti di trovare? Qualcuno lo conosci immagino però conoscerai anche gli altri e ti aspetti qualcosa sul mercato? Ti dico sinceramente Tario che di mercato non posso parlare perché il mercato arriverà a dicembre qui siamo a novembre e ci sono partite importanti da giocare con un gruppo che sicuramente da quello che so da quello che vedo ha parecchie direzioni parecchi giocatori acciaccati quindi fare subito una formazione buttarla lì contro squadre importanti come c'è la vecchia domenica se non ti fai una prestazione importante rischi che davvero rischi subito di non invertire la rotta che sicuramente non è in questo momento quella giusta Mister non so se tu credi nel destino però insomma domenica avete subito la partita col Civitavecchia per te la prima in campionato sarà col tuo Civitavecchia possiamo dire così quindi che emozione sarà per te tornare al Tamagnini? Guarda io penso che domenica sarà più la partita della Dispoli contro Civitavecchia Cantagnari diciamo ha tanti ricordi belli con questi ragazzi con questa società con tante persone in questo momento penso che sono più concentrati in quello che devo fare e magari le emozioni purtroppo quando sono così ravvicinate molte volte non sai come saranno però in questo momento devo pensare la Dispoli e tenere da parte tutti quelli che so tutti i ben ricordi che ho avuto nella stagione passata ti sei dato un obiettivo per questa stagione per le prossime partite? io non posso ragionare a lungo termine quindi ti vedrei l'immediato quello che questi ragazzi possano darmi perché poi alla fine sono loro che tirano fuori a me da una situazione di classifica non piacevole quindi io spero che tutti si mettano praticamente insieme a me e 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 a me subito nella giusta sintonia per stare insieme e tirare fuori tutto quello di buono che abbiamo e mascherare quello che di non buono in questo momento c'è e invece ti aspettavi di poter vedere il Civitavecchia lassù in classifica al primo posto? io penso di sì anche perché quest'anno il Civitavecchia io penso che diciamo sull'esperienza di quell'altro anno ha colmato tutti quelli che erano piccole defezioni che magari l'altro anno avevamo poi se hai un giocatore come Vittorini che si trovi dopo 11 mattine si trova a 16 leti quindi già la dice lunga su quello che è la forza di questa squadra io penso al Civitavecchia c'è tutti i numeri per arrivare in quella posizione attuale che nel fondo è stato ufficialmente affidato l'appalto per i lavori di manutenzione dello stadio Fattori l'annuncio è arrivato nel corso del Consiglio Comunale di lunedì scorso da parte dell'assessore ai lavori pubblici Roberto Dottavio nel corso dei prossimi giorni Dottavio incontrerà la ditta che si è aggiudicata i lavori di cui per motivi normativi non si può ancora annunciare il nome per definire i tempi di durata dell'intervento e per valutare la possibilità della variante per il manto erboso che potrebbe essere naturale l'obiettivo dell'amministrazione comunale così come dichiarato in più momenti è di fare in modo che lo stadio possa riaprire al pubblico a febbraio 2024 e Leonardo Bezzi non fa più parte della Stemar 90 cestistica ad affermarlo è direttamente l'ormai ex giocatore rosso nero che spiega i motivi per cui non fa più parte della squadra di cui ha fatto parte per diversi anni ho lasciato la squadra dopo la partita di Ferentino spiega Leonardo Bezzi momento in cui ho comunicato a coach briscese che non avrei più fatto parte del gruppo nei primi due mesi di allenamento di allenamenti mi sono reso conto che con il cambio della stagione tecnica c'erano stati dei cambiamenti fisiologici a livello di gestione e ho dovuto rivedere alcune mie priorità per darle al lavoro quando comincia un nuovo ciclo bisogna mettere anima e corpo e penso di averlo fatto nei primi due mesi ma non ho avuto i riscontri che auspicavo a livello di stimoli ne avevo sempre meno auguro ai miei compagni allo staff tecnico di raggiungere l'obiettivo prefisso prefissato dalla società e aumenta il palmares di Marco Del Lungo il campione Civita Vecchiesa ha vinto anche la Supercoppa Europea con la sua Pro Recco nella finale della manifestazione i biancocelessi sono andati a vincere per 16 a 8 nella vasca del Sabadell che si è raggiudicato l'Euro Cup ma in Spagna l'equilibrio non se ne è visto con il set di Sandro Sucno che ha dimostrato sin da subito la sua superiorità e poi ha travolto gli avversari al cambio di metà vasca Del Lungo ha chiuso la porta quando il Sabadell ha cercato di recuperare il passivo attraverso i tiri su alcune superiorità numeriche e lutto nel mondo della pallannuoto nelle scorse ore è morto Ciro Colaci popolare personaggio conosciuto da generazioni di pallannuotisti e non solo custode prima della piscina di Largo Galli e poi del Palagalli era molto apprezzato nell'ambito soprattutto dai ragazzi anche per il suo essere finto burbero che semplicemente celava la sua forte simpatia negli ultimi anni si era allontanato dal mondo di cui ha fatto parte per tutta la vita a causa del peggioramento delle sue condizioni i funerali sono stati fissati per venerdì alle 10 alla chiesa di San Gordiano e con questo è tutto termina qui questa edizione del nostro telegiornale ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook Youtube ed Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie per l'ascolto vi auguro un buon proseguimento di serata www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it